Anna Armiroffi, lo pantone. Trenomerci. Aspettiamo che passi il treno. Passato. Ok. Almiroffi, lo pantone Anna e tutti mi conoscono, però è Anna Rosa Almiroffi. Non posso spiegare il motivo, però aspettiamo più ora, che non due minuti. Però se non sono io, ho deciso di candidarmi, prima di tutto perché vorrei dare il mio contributo per far vincere il seto sinistra in questo San Piero, San Stefano e Arnello. Credo che ci sia molto da fare. Una delle cose che ci vuoleva Rosa, insomma, che ti ha spiegato benissimo, i primi del nostro programma, dobbiamo darci da fare per sviluppare la participazione dei cittadini alla sicurezza del nostro quartiere. L'impegno che mi prendo è quello di occuparmi appunto della riqualificazione per rendere più visibili, più fluidi i luoghi, sia dei terzi, sia dei luoghi importanti della nostra, del nostro quartiere. Io sono, in particolare, non conosco la zona Colli, lì abbiamo Passo Cavaioni, Villa Ghigli, che ci sono una sede di cose da fare, che si possono fare, ma vogliamo rivincere in quartiere e ci siamo passati. Grazie.